Non aveva rinnovato la polizza assicurativa e nemmeno fatto la revisione. È questo il motivo, ipotizzano i carabinieri, che ha fatto perdere la testa ad un 35enne residente a Prato, Cristian Lombardi, arrestato per resistenza e lesioni gravi. E lui, l'uomo a cui i militari hanno dato la caccia nel pomeriggio di ieri, intorno alla carcere della Dogaia, facendo alzare in volo anche un elicottero da Pisa, come scrive il Tirreno. Lombardi, riferiscono i carabinieri, è stato fermato in via Segno per un normale posto di controllo, gli sono stati chiesti i documenti. Ma dopo aver acconsentito, l'uomo è ripartito ed ha investito un maresciallo, giudicato guaribile in 15 giorni. È così scattata una caccia all'uomo che ha impegnato diverse pattuglie dei carabinieri. Il fuggitivo ha abbandonato l'auto ed ha tentato di allontanarsi a piedi, ma dopo qualche tempo è stato avvistato lungo l'argine del torrente Vella e arrestato. Ora dovrà rispondere di lesioni gravi e resistenza. Proprio dalla città laniera era stato lanciato l'allarme nei mesi scorsi per le auto in circolazione senza assicurazione. Più di 100 veicoli erano stati sequestrati nel solo mese di gennaio per questo motivo dalla Polizia Municipale. Il fenomeno è preoccupante, ha spiegato il comandante della Polizia Municipale di Prato, Andrea Pasquinelli. I furbetti dell'assicurazione che si mettono al volante anche quando quest'ultima è scaduta ci sono sempre stati, ma la crisi ha acuito questo fenomeno, come molti altri legati alle difficoltà delle famiglie di far fronte alle spese ordinarie. Di contro i prezzi dell'assicurazione lievitano e stando ad un'indagine dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva, Prato è tra le 10 città italiane dove mediamente si paga di più, mentre le tariffe regionali più basse sono quelle della provincia di Siena e quella di Arizio.